Cantare di gola, cantare di diaframma, sono due espressioni utilizzatissime. Generalmente il cantante che canta di gola viene identificato come quello che si fa male, come quello che non è educato, quello che rischia di avere i noduli e che poi si dovrà sottoporre alle operazioni, mentre invece chi canta di diaframma è il cantante bravo, esperto, che sa quello che sta facendo e che non si stanca mai. Confesso che ho sempre avuto, fin da quando ho iniziato a cantare, vent'anni fa, ha un cattivo rapporto con queste due espressioni, perché dal mio punto di vista il diaframma e la gola entrambi sono coinvolti nella fonazione, per cui a un certo punto per fare un po' di chiarezza comincio, andiamo a vedere che cosa vuol dire gola e che cosa vuol dire diaframma. Allora, il vocabolario treccani dice in anatomia gola, due punti, termine generico che indica la faringe, quindi la gola è la faringe, quindi a questo punto dobbiamo andare a vedere che cosa è la faringe. La faringe è il condotto muscolo membranoso situato in fondo alla bocca che mette in collegamento la cavità orale e nasale con la laringe e l'esofago. La cavità oro, faringea e anche nasale costituiscono il tratto vocale. Chiunque che abbia studiato un minimo di fisiologia del canto sa che quella è la sede dell'amplificazione della voce e dove la voce si arricchisce tembricamente, ovvero dove prende il timbro. Tant'è che le mie corde vocali non danno molto del colore della mia voce, ma semplicemente sono la sorgente sonora. Il colore della mia voce dipende dal mio tratto vocale, ok? Il mio tratto vocale è costituito da una serie di strutture fisse che sono quelle osse e mobili, come le labbra, la lingua, il velo palatino morbido e anche la laringe intesa come una sorta di ascensore che può salire e scendere e che quindi modifica in qualche modo la forma del nostro tratto vocale, quindi modifica in qualche modo la forma della faringe, della gola. Quindi cantare di gola come espressione, se vogliamo, non può essere utilizzata specificatamente per chi non sa cantare, ma anzi forse saper utilizzare bene la gola o quello che ci sta al suo interno, visto che all'interno della gola, se vogliamo, più genericamente ci si può identificare anche appunto la laringe e le corde vocali, se vogliamo, quindi a questo punto, come dire, diventa un pochettino forse il contrario, cioè saper utilizzare bene la gola forse può essere un sinonimo di cantare, ok? Quindi bisogna capire che cosa si intende per cantare di gola, ok? Con il tempo ho appreso che per cantare di gola si intende un atteggiamento specifico, ovvero dovrebbe, non so se per tutti è così, ma a quanto pare per molti è così, consistere nella contrazione della lingua nella parte posteriore e arretramento. Quindi una cosa del genere, quindi quando praticamente la lingua si tira indietro e si irrigidisce. Effettivamente devo dire che questo qua è decisamente un problema importante quando si verifica. Ho potuto riscontrarlo con diversi allievi, sono quelli che quantomeno a livello tecnico incontrano il primo scoglio più importante, perché quando la lingua interviene nella fonazione, prima di convincere il corpo, quindi la mente dello studente, a svincolare il movimento della lingua con le altre cose che fa, quindi con il tratto vocale e con l'organo fanatorio inteso proprio con le corde vocali e tutto quello che c'è intorno, ce ne vuole un po' e la maggior parte dei casi diventa un percorso un pochino più importante, almeno di partenza. Poi però c'è da dire questo, che in realtà io il suono ingolato lo riconosco anche in molti cantanti famosi, per fare un paio di esempi, mi viene in mente Morrissey degli Smiths, oppure mi viene in mente qualche nota acuta di Emily degli Evanescence, oppure ancora qualcosa di Anastasia, ma ecco, ce ne è tanti effettivamente, addirittura forse in qualche leggero colore l'ho sentito anche in alcuni acuti di Stylindion, non voglio ora, forse mi sbaglio, però ecco, anche perché, lo ridico, è impossibile sapere esattamente cosa fanno, però è un colore che io qualche volta, un flavor così, che l'ho sentito anche nella sua voce. Quindi, in questo senso, cosa dovrei dire? In questo senso, questi sono cantanti che cantano benissimo, ok? E quindi, come dire, cantare ingolato è anche un colore, è anche una possibilità. Per dirne un altro che canta ingolato sicuramente, fino alla distorsione della voce, è Louis Armstrong, ma non faremo mai a meno di quella voce ingolata. Provate a immaginare What a Wonderful World cantata senza quella voce tanto ingolata da arrivare alla distorsione. La mia imitazione fa veramente schifo, però, anche in tal caso, è a prescindere sbagliato. Io credo, come al solito, che dipenda. Nel senso che, se io lo applico a delle fonazioni igieniche come un colore, può essere un colore interessante. Certo, non è sicuramente la prima cosa che andrei a imparare, però, a un livello avanzato, quando, voglio dire, controllo benissimo il mio strumento, può anche essere una possibilità, e può essere una possibilità super interessante, ad esempio. Poi, brevissima parentesi, c'è una schiera importante di insegnanti di canto, di cantanti che, non appena sentono il suono distorto, dicono quello lì è canto di gola e quello lì fa male. Io, insomma, un po' di ricerche riguardo questa cosa, anche documentate con fisiologia, voglio dire, mi sono fatto aiutare da Franco Fussi, ho un po' di materiale e l'ho anche pubblicato, che sostiene una tesi ben diversa, c'è che non è che a prescindere dobbiamo pensare che una voce distorta faccia male, non diversamente dovremmo pensare che una voce pulita faccia bene, entrambi possono far male se sono delle emissioni sbagliate. Non starò con questo video a difendere la tecnica della voce distorta dai suoi vari detrattori, l'ho già fatto in altri video, quindi oggi parliamo di altri. Parliamo invece adesso di cantare di diaframma, cantare di diaframma. Cos'è il diaframma? Non lo sto a cercare su tre cani, tanto voglio dire, preferisco spiegarlo io in un modo che mi piace a me, ecco. Il diaframma è il mantice del nostro fiato, ovvero è quello strumento che, come analogamente fa lo stantuffo di una seringa che tira l'aria all'interno del placone, insomma della seringa, si comporta così il diaframma, ovvero è questo, schematizziamolo, immaginiamolo una cupola, posta qua sotto, che è attaccata alle coste, c'ha una parte tendina, immaginiamola piatta, e i muscoli che sono disposti verticalmente, ok? Non è proprio così, lo sto solo schematizzando, però vorrei capire che quando i muscoli sono attraversati dall'impulso elettrico del movimento, si contraggono e fa l'effetto mantice, ok? Questo è il diaframma, prendiamo questo concetto e mettiamolo lì. Ora, quando cantiamo, stiamo emettendo del fiato, quindi utilizzare il diaframma in una fase di emissione significa appoggiare il fiato, ovvero fare riferimento alla muscolatura ispiratoria per diminuire la tensione del fiato in uscita, quindi appoggiare molto significa riuscire ad emettere dei fiati anche a dinamica minima e a tenerli più lunghi nel tempo. Chiaramente non è che quando si parla di appoggio si parla solo di fiati lunghi e a bassa dinamica, ma si parla di un controllo del fiato, cioè voglio dire quando non spingo, va bene? Quindi quando c'è un buon controllo del fiato c'è un buon equilibrio fra appoggio e sostegno, sostegno è la forza antagonista dell'appoggio, ora non stiamo a parlare di questo, però effettivamente un fiato ben appoggiato e di conseguenza ben sostenuto è sicuramente un'abilità del bravo cantante, ok? Però, torno a bomba, cantare di diaframma, cioè è questo veramente l'elemento che ci fa la differenza? È questo che ci fa cantare bene? Il fatto che ci appelliamo all'ingaggio del diaframma il nostro focus è solo quello? Ora, il diaframma è un muscolo, non so se avete visto una laringe, quanti muscoli ci sono dentro? Cioè, quelli che conosciamo tutti noi cantanti, dai... interavitone dei, cricotiroidei laterali, muscoli responsabili quindi dell'adduzione, il tiravitone dei, che è la corda vocale, il cricotiroidei è il suo antagonista, altra muscolatura intrinseca, gli ioidei, persino lo stano tirodeo partecipa perché comunque può abbassare la laringe, gli elevatori del palato, tutta la muscolatura del viso. Ora, ecco, dire se lui usa il diaframma, quindi se lui canta di diaframma, allora sa cantare, secondo me è veramente... non può essere questo che classifica il cantante bravo, a mio avviso. A maggior ragione se pensa a una cosa, una respirazione completamente diaframmatica è una respirazione nella quale il diaframma si abbassa, la catena addominale rimane rilassata, e quindi le viscere si organizzano in avanti e spingendo la pancia fuori si vede la pancia gonfia. Ma la domanda è quanti cantanti avete visto dal vivo, ma anche, insomma, dei quali avete visto dei video mentre cantano, quanti di questi hanno la pancia gonfia? E ora, sinceramente, come dire, se la figura del cantante non è di certo quella di un uomo con la pancia gonfia, più che altro un cantante ha sempre una postura di un certo tipo, a volte può essere più rock, quindi magari piegata in avanti, indietro, ma insomma, comunque l'emblema del cantante è con la postura eretta, no? Semmai ancorato, no? Come si dice nel gergo proprio tecnico, no? Quindi con una postura orgogliosa, ecco, se vogliamo. Ma perché? Sto soltanto facendo un discorsino così della domenica per essere provocatorio o c'è un motivo? No, 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 c'è un motivo perché non a caso la respirazione prettamente diaframmatica non è quella più adatta al canto, probabilmente è quella più adatta non lo so, non lo so, è però al rilassamento, per conciliare appunto, sì, rilassamento, probabilmente se devo dormire, allora respirare profondamente diaframmaticamente è molto rilassante. Ma si è scoperto recentemente altre cose, ad esempio che la respirazione più efficace per l'atto del canto è la respirazione costo-diaframmatica, ovvero quella che coinvolge anche i elevatori delle coste intercostali esterni che ampliano lateralmente la cassa toracica a questa altezza, ok? E quindi cosa succede? La cassa toracica si allarga, il diaframma si abbassa, ma non si appassa del tutto in modo da far venire così tanto fuori la pancia, si gonfia più che altro questa zona, ok? E quindi, quando canto non mi si vede la pancione. Questo è molto importante perché chi non lo sapesse, per ottenere la massima forza del sostegno è importante il movimento costale perché le cose sono elastiche per cui se le dilato in fase di ispirazione in fase di emissione sarà come lasciare dico l'arco, no? Tiro l'arco, lascio. La loro qualità elastica mi darà più forza di emissione. Ora, dopo tutta questa riflessione vi invito a ragionare quindi su questa cosa. È davvero degno classificare il cantante bravo come colui che canta di diaframma e il cantante non bravo come colui che canta di gola? È davvero il fatto di concentrarsi sull'utilizzo di un organo di questi due piuttosto che l'altro a identificare la bravura del performer, del cantante? Io per me ho scelto che sono espressioni un pochettino che lasciano un po' il tempo che trovano però chiaramente insomma tante volte ci usano delle espressioni alle quali alleghiamo dei significati che poi prescindono la terminologia la fisiologia tutto quanto però dobbiamo anche secondo me sapere comunicare nel modo migliore quantomeno sapere perché ci può essere un punto di vista diverso nei confronti di queste espressioni. Grazie per avermi seguito nei miei deliri io mi chiamo Matteo Ratti sono l'iniziente di canto e sono il coordinatore nazionale dell'Accademia Lizard e se vi è piaciuto questo video vi invito a cliccare su subscribe sulla campanellina così ricevete tutti gli update magari anche a seguirmi su Instagram mi trovate come Matteo Ratti trattino basso off music grazie mille a presto ciao